Salve a tutti e ben ritrovati, io sono ancora in compagnia anche oggi di Parmarè, la nostra ospite che ci tiene compagnia per tutta la settimana e che ieri abbiamo ripreso a conoscerla, abbiamo scoperto nuove cose di te Parmarè, oggi se è vero che la personalità, la vita, il vissuto di un artista è importante per capire meglio la sua arte, il suo mestiere, la sua pratica artistica, cosa si nasconde dietro i suoi quadri, allora proviamo un po' a conoscerti da vicino, proviamo un po' a capire come ha vissuto Parmarè, dove è nata, dove è cresciuta, cosa ha visto, i suoi ricordi. Tu sei nata a Comacchio, no? Io sono nata a Comacchio, ho fatto diciamo proprio la prima infanzia a Comacchio, poi mi sono, ci siamo spostati, siamo andati in un paesino vicino che è Porto Garibaldi, però devo fare una premessa che noi siamo proprio di famiglia di artisti, quindi l'input in famiglia c'è già, nasce nel DNA, diciamo nel DNA. Perché? Chi era un artista nella tua famiglia? No, i miei genitori sono due persone erano, mia mamma è ancora viva, però mio papà erano, sono persone molto semplici, ma però devo ringraziare loro, il loro lavoro, la loro perspicacia a farci fare le scuole che una volta non erano considerate scuole, cioè fare una scuola d'arte non ti garantiva un futuro, si pensava se fai dei sacrifici, se lavori devi pensare al futuro, devi fare una scuola che poi ti possa dare un lavoro, invece soprattutto la mia mamma diceva quello che vogliono fare i miei figli io glielo lascio fare, scuola d'arte, benissimo, nessun problema, e quindi sia io, mio fratello più grande di me, mio fratello più piccolo di me, mia sorella, tutti. Siete tutti degli artisti, avete tutti frequentato degli istituti d'arte? Abbiamo frequentato gli istituti d'arte, oppure chi l'accademia, chi l'università, quindi allora il maggiore è disegnatore anatomico, io invece ho fatto l'accademia e quindi dipingo, l'altro più piccolo è un architetto e mia sorella è una pianista. Ah, quindi è proprio l'arte in casa vostra? In casa nostra si respira, si ama l'arte, si ama il quadro, si ama e ci si sente anche ben tutti insieme, partecipi a quel filone dell'arte perché amiamo anche informarci, tenere anche una cultura sull'arte, non una cosa, un'infarinatura, ma bensì hai bisogno di studiare, di guardare, di confrontare e quindi di conseguenza... Di prendere sempre nuovi spunti, anche l'uno con l'altro, no? Quindi diciamo che già dalle medie il nostro, perché era il nostro insegnante di disegno, ci portava alle varie gare di pittura, sceglieva i fratelli parmiani, perché sapeva che certamente un piccolo premio veniva portato a casa, che poi era l'onore della scuola media, quindi... Quindi diciamo che i tuoi genitori in particolare ti hanno sostenuto nelle tue scelte, ti hanno sempre... Ci hanno sostenuto. Quanto è importante, anche in relazione ai giovani di oggi, che sai, allora era incerto, oggi forse ancora di più, non lo so, e sai, non tutti i genitori sono favorevoli quando... No, non tutti i genitori vedono questa professione, un futuro per i propri figli. O non tutti i genitori la riconoscono come professione, sai? Ecco, cioè per molte persone, ma anche tuttora, ma soprattutto una volta, era una perere di tempo, era un futuro incerto. Poi quando tu senti gli altri ti dicono, ma non è un bel mestiere, è un mestiere che non ti dà sicurezza economica, ma se tu incominci a iniziare questo tipo di vita, perché per me è vita questo, è un modo di vivere, è una tua scelta certamente, non devi partire con il presupposto di far soldi, di far denaro, perché poi non sei più un artista, tra virgolette, ma diventi uno di tanti. Un mestierante. Sì, e quindi di conseguenza, dopo il tuo lavoro, io lo paragonerei poi a un bravo idraulico, a un bravo muratore, a un bravo elettricista, a un bravo pittore, perché il pittore è quello che esegue sotto commissione e di conseguenza, non so, la persona ti commissiona un ritratto e tu da bravo pittore, esecutore, esegui il ritratto. Tu hai mai dipinto per commissione, sotto commissione? Sì, sì, ho iniziato così. E come adesso? Che idea ti sei fatta dell'esecuzione commissionata rispetto invece a un'attività più libera? Più libera. Quale poi è la tua linea di ricerca e di sperimentazione? Allora, quando tu esegui un'opera che ti viene ordinata, la esegui, cioè, io parlo sempre per me stessa, io l'ho sempre eseguita molto, ma molto con il cuore, perché volevo ben soddisfare la persona che l'aveva commissionata. E quindi lavoravo con diligenza, con professionalità, con impegno, in modo che la persona, quando osservava l'opera finita, fosse soddisfatto. Fosse, ma soddisfatto soprattutto di quello che io avevo realizzato. solo che ero arrivata ad un momento che non ero più me stessa. Io ero diventata molto meccanica, facevo le cose perché mi venivano ordinate e quindi il fare continuamente le stesse cose, non ero più me, non ero più libera, ero soffocata. Perché poi tu hai sempre cercato la libertà nelle tue opere, no? Sì, ci sono degli esempi, non so adesso se posso raccontarlo, ma abitualmente a Comacchio c'è l'abitudine di ordinare il quadro da un pittore di una certa fama e che deve interpretare il monumento di quel paese. Per me era una costrizione, perché? Perché per me era una cosa molto pesante da fare, non perché non fosse bello il monumento, ma perché era stato già ripetuto non una volta, due volte, centomila volte, ma non solo da me, da altri, da quell'altro. Tu guardi, non so, facciamo un esempio semplicissimo, la torre di Pisa e te la fanno sempre in quella maniera, questa torre di Pisa monotona, sempre in quella maniera. Invece io ho cercato nelle mie opere di personalizzarle, aggiungendo un qualche cosa di diverso, un qualche cosa che tu, del tuo paese, sei pisano, ti riconosci quel quadro, ma non dalla torre di Pisa, che è piccola in un angolo, ma bensì da tutto il contesto, dal dettaglio, capito? Quindi io trasformavo quel monumento in un'opera mia, però col monumento. No, ma infatti quello che devo riconoscere è che tu e poi ne parleremo meglio nelle prossime puntate in cui vedremo più da vicino le tue tecniche, il tuo stile pittorico, che è molto particolare, devo riconoscere che nonostante tu, insomma, non sia nata ieri. No, per niente. Non faccia parte. Lo si vede. Ecco, qui vediamo in schermo alcune delle tue opere. Questa è led. Esatto, e proprio qui ne approfitto che la regia ci ha mandato queste immagini per dire che, in realtà, nonostante tu appunto non faccia parte della nuova generazione di artisti che vivono, che crescono con nuove forme d'arte, con nuove forme di sperimentazione, ma faccia parte invece di una scuola molto più datata e quindi molto più classica, molto più accademica, le tue opere invece di Contro sono di una contemporaneità, sono di una innovazione, sono di una particolarità che sembrano veramente eseguite da mani molto giovani. Grazie. Ed è la verità. Ritorniamo alla tua biografia, alla tua vita, alle tue esperienze di vita. Quindi tu nasci a Comacchio, i tuoi genitori ti spronano, ti seguono, ti accettano la tua passione, il tuo amore per l'arte e ti permettono di studiare. Ti faccio… e accettano il fatto che io, come ragazza, frequentassi una scuola d'arte. Perché allora era… Ecco, che allora non era una cosa molto ben vista. No, lo so bene, perché, insomma, lo so bene. Hai frequentato quindi l'Istituto d'Arte, hai frequentato poi l'Accademia, no? Certo. Hai avuto una formazione accademica. Nel tuo percorso, però, una persona molto importante c'è stata, che tu hai incontrato e che professionalmente e personalmente è despecchio, secondo me, di come tu vivi il tuo mestiere, di come tu vivi il tuo amore, la tua personalità. All'interno della figura di Parmare, arte e vita si mischiano insieme, non puoi più scindere le due cose. Quotidianamente tu pratichi l'arte non perché è un tuo mestiere, ma perché è una tua esigenza, perché ti realizza, no? È come massaggiarsi, è come prendersi cura, nutrire. È come per un bicchier d'acqua. È come nutrirsi. È sete e bevi un bicchier d'acqua. Esatto, è come nutrirsi, è come dissetarsi e quindi è un'esigenza. E questo qui, ritorno al mio discorso, non sto divacando a caso. No, no. Perché in realtà la tua vita personale e la tua vita professionale si mischiano insieme anche nell'incontro di questa persona, che è Vincenzo Cignarale, che ti segue praticamente dappertutto. Anche perché, grazie a lui... Perché come critico è tremendo. E perché lui anche qui gli dà dei consigli su cosa... No, no. È molto, molto critico. Lui, dovendo affrontare il pubblico, sa che cosa esige il pubblico. E di conseguenza lui dice, io capisco che tu vuoi essere libera di dipingere quello che vorresti, ma non sempre lo si può fare. E allora abbiamo dei grossi battibecchi perché io parlo d'artista mentre lui parla da curatore. Che sono due cose diverse, ne parlavamo prima. Tu mi dicevi, io sono un'artista. Quando dipingo, quando creo le mie cose, non penso che debbano essere viste da qualcuno. Penso perché lo faccio per me. Lo faccio per me, lo faccio... Invece lui è la parte... Più venale. Lui è la parte che si rivolge al pubblico, che conosce il gusto del pubblico. Si sa anche come, non so, lui è critico perché è cosciente di quello che a volte le critiche degli altri possono... Ti è stato anche da maestro perché ti ha insegnato comunque, ti ha anche fatto conoscere molte persone. Oh sì, se non ripeto, io come donna, e qui siamo in un contesto molto particolare, come donna e come pitrice, non mi reputo un artista perché devono essere gli altri a dirmi se sono un artista oppure no. Io come pitrice, come una persona che esegue dei quadri ad olio o in altre materie, mi... oddio, ho perso il filo, scusa, sono molto emozionata. Parlavamo del fatto che Cignarale ti... Ecco, lui mi ha fatto conoscere molte persone perché ha avuto molta fiducia in me e di conseguenza lui si è dedicato a me soprattutto per aiutarmi, visto che le donne in questo lavoro, in questa materia, hanno molte difficoltà nel farsi conoscere. Molte, moltissime. È vero. Tu però hai interrotto il tuo mestiere per un po' di tempo perché ti sei dedicata a tuo figlio, perché sei diventata mamma. Ecco, come vive un artista, una pitrice, la maternità, il fatto di star lontano dal proprio mestiere? No, 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 non sono stata lontana dal mio mestiere perché quando dormiva mio figlio lo disegnavo. Ah, ok, quindi continuavi a coltivare questa tua passione. Disegnavo, lo dipingevo, lo... con l'acquerello, con la matita, con... Quindi era anche il tuo soggetto preferito, diciamo. In tutte le maniere, nel bagnetto, nella culla, è stata un'ispirazione, una continua ispirazione. Disegnare un bambino che dorme, un bambino che gioca, un bambino che si rotola, è molto, molto, molto bello, molto bello. È bellissima questa cosa di te, riassumi un po' quello che è stato detto. Parmare, io ti saluto ancora una volta oggi, domani invece ripercorreremo quello che è l'aspetto più tecnico delle tue opere. Quindi anche impareremo a conoscere quali sono le tue tecniche. Vi rimando all'appuntamento di domani con Parmare, vi saluto a domani. Ciao a tutti.